Come è stato questo giro? Sì, nelle corse un po' in pianura e ondulate abbiamo provato ad andare nelle fughe o buttarci qualche volata, è uscito qualche piazzamento, ma poi contavamo in Fabiano e per la classifica generale, purtroppo non sta benissimo, ha qualche problema di salute e quindi è mancata un po' la sua figura nella classifica generale, però il giro finisce oggi, cerchiamo di fare una buona tappa anche oggi. I prossimi obiettivi? Adesso spero di staccare un pochino perché ho corso abbastanza, poi si riprenderà la seconda parte di stagione, il calendario devo ancora definirlo con la squadra. E siete a Parigi, no, il 27? La squadra sarà a Parigi, io non sono ancora sicura della mia presenza lì, spero, però non è ancora stata definita la squadra. Ok, grazie. Grazie a voi.